da stamattina ho già fatto tre pittate, uno l'ho fatta nella casa del mio amico Carmeniel un'altra pitturata l'ho fatta in casa di una signora e un'altra ancora in casa di una signorina e tengo pronto il pennello ancora per qualche altra pitturata ecco qua signori io mi inchino davanti a voi, io pure cenelle quando mi sposai per mogliere mi prese voglio parlare un po' più italiano, quando mi sposai mi prese per moglia Lucrezia, detta Zese dal nostro matrimonio nascette una figlioletta, l'unica figlia solo, soletta adesso la nostra figlioletta che si chiama Vicenzella è diventata Grandicella e presto presto crede che si dovrà sposare, sì sicuramente, così se ne va fuori di casa e io non tengo più il pensiere di poterli dare da mangiare il mantenimento che si dà ai vicini io con le cenelle, con sta mazza e stupornellina, me ne vengo da Avellino senza pane e senza vino e a voi tutti che state a guardare io vi dedico questo bello concettino musica maestra musica maestra